Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe Tiranno e voglio fare questa videotestimonianza ai corsi di William. Io li ho tutti quanti, quindi non farò una videotestimonianza per un singolo percorso, perché appunto li ho tutti, quindi mi verrebbe difficile, ma è più una videotestimonianza generica dei corsi di William, a me mi hanno aiutato tantissimo. Io sono anche all'interno del Mastermind, chiaramente dopo aver fatto diversi corsi da William, ho deciso di fare comunque il passo di entrare anche nel Mastermind, perché volevo scalare sempre di più. I corsi sono strautili per appunto iniziare a fare le prime operazioni immobiliari, chiaramente non c'è neanche da dirlo, non sono dei corsi da guardare, il modello Netflix, nel senso che comunque dovete guardare, apprendere e poi dopo chiaramente mettere in pratica, uscire lì fuori e andare appunto a parlare con le agenzie. Quindi se volete fare operazioni immobiliari, questi sono chiaramente utilissimi, in particolare mi viene da consigliarvi di fare prima comunque immobiliaristi, successivamente iniziare a fare next level e appunto nel mezzo comunque magari anche con le aste, se vi interessano le aste, cosa consigliatissima perché appunto è molto molto performante e poi dopo chiaramente, dopo aver fatto diverse operazioni, entrare anche nel Mastermind, siccome questa è la sequenza corretta appunto per poter apprendere al meglio all'interno dei corsi di William, ok?